I probabili risvolti economici della pandemia e i settori che guideranno la ripresa del mercato. Restate insieme a me per vedere insieme la situazione attuale negli Stati Uniti d'America, dove, trainati dai vaccini, da un rinnovato ottimismo della popolazione, gli acquisti di servizi nel settore del turismo e della ristorazione è alle stelle. Un tema attuale di cui ha parlato anche il Wall Street Journal in un recente articolo e che può aiutarci ad immaginare cosa potrà accadere anche qui in Italia. Prima di continuare però vi invito ad iscrivervi al nostro canale e ad usufruire di tre giorni di prova gratuita sul sito www.emiliottomasini.it per restare quotidianamente aggiornati sulle principali novità del mercato. Per capire quali saranno i risvolti economici della pandemia può essere utile osservare quei paesi dove i vaccini hanno reso possibile l'apertura di svariate attività o più semplicemente una progettualità non solo sperata ma fattibile. Per farlo oggi indirizziamo la nostra attenzione agli Stati Uniti, dove a circa 42 milioni di americani è stata somministrata la prima dose, cioè il 12,7% della popolazione, mentre quelli che hanno completato la vaccinazione sono 17 milioni. In Italia, come ben sappiamo, i numeri sono diversi. Ad oggi infatti sono state somministrate circa 7.841.399 dosi di vaccino per un totale, tra prime e seconde dosi, di 2.489.051 persone vaccinate. Come indicato anche dal Wall Street Journal, nel nuovo continente questi dati hanno fatto crescere la fiducia delle persone e con lei la spinta a spendere e a fare così ripartire l'economia. In questo nuovo mondo post-Covid vediamo come le prenotazioni di hotel e ristoranti siano alle stelle, immediatamente seguite dai biglietti aerei che spariscono velocemente. I consumatori stanno spendendo il loro denaro per abbonamenti in palestra, soggiorni e spa più ora rispetto a quanto abbiano speso dall'inizio della pandemia. Ciò che risulta evidente è che i servizi più richiesti siano proprio quelli che sono stati costretti a chiudere durante i picchi dell'emergenza sanitaria. Che tutti vogliamo viaggiare è evidente, soprattutto in un momento in cui per un anno c'è stata preclusa questa possibilità. Di conseguenza il viaggio è diventato un sogno proibito e si posiziona sicuramente tra i servizi più richiesti per chi può e più ambiti per quelli che invece ancora non possono muoversi. Finalmente la paura sta scemando e viene sostituita da una rinnovata fiducia che fa venire voglia di muoversi, cenare al ristorante o andare a teatro. In questa prospettiva gli economisti intervistati dal Wall Street Journal hanno stimato una crescita economica per il 2021 pari al 5,95%, un ritmo più alto rispetto a quello degli ultimi quattro decenni. La voglia è condividere e socializzare anziché regalarsi un oggetto materiale e quindi vengono premiati ristoranti, palestre o spa e più di tutte le attività turistiche. Il numero di biglietti aerei venduti, la prenotazione di alloggi e l'utilizzo di piattaforme di viaggio online è cresciuto esponenzialmente durante le scorse settimane e ora è fermo a livello più alto dall'inizio della pandemia. Nonostante il livello di occupazione degli hotel sia ancora inferiore del 30% rispetto al 2019, in queste settimane sta crescendo con forza e ottimismo. Il patema nel settore degli hotel così è stato elevato fino alla metà di gennaio, per poi iniziare lentamente a calare fino a dissolversi completamente, si spera, nei prossimi mesi. E poi c'è da considerare anche un altro elemento importante, cioè chi non ha subito perdite economiche durante la pandemia a causa per esempio della perdita del lavoro da un anno a questa parte è riuscito a risparmiare molto, avendo quindi ora le possibilità di spendere il denaro accumulato. E questa crescita di spese in servizi ha generato anche una parallela spinta nella ripresa del mercato del lavoro, con un'accelerazione di assunzioni a partire dal mese di febbraio. Secondo gli economisti, negli Stati Uniti quest'anno nasceranno milioni di nuovi posti di lavoro. Beh, ovviamente la ripresa totale richiederà del tempo, in questo come negli altri campi. Lo scorso mese, rispetto a febbraio 2020, sono stati registrati 9,5 milioni di posti di lavoro in meno, il livello di occupazione è ancora inferiore del 6% rispetto ai numeri pre-pandemia. Appurato che è fondamentale essere pazienti e dare tempo al tempo, quindi il quadro globale sta tornando ad essere luminoso e non più oscurato dal Covid. L'arrivo dell'estate, la campagna vaccinale, il desiderio dei consumatori di uscire di casa e spingere l'economia sicuramente saranno il carburante di un cambiamento che, anche se ancora lontano, si inizia finalmente a scorgere. Se in Italia dovremo aspettare un po' di più, data la situazione attuale inerente ai vaccini, è auspicabile che il movimento assomiglierà a quello degli Stati Uniti e per vedere tempi migliori non ci resta che attendere la fine del tunnel. Bene, per oggi abbiamo finito, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.